Subito il buongiorno e ben trovato al Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri che è tornato nostro ospite. Ben trovato e buona domenica Sileri. Allora, ripartiamo dalla strettissima attualità per cercare di capire un po' dove siamo Sileri a questo punto nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Se siamo finalmente fuori dall'emergenza lo possiamo dire Sileri? Un po' a bassa voce o ancora a timore? Dall'emergenza possiamo dire che siamo usciti? Questa è la fase di convivenza? Diciamo dalla fase acuta che abbiamo osservato da fine febbraio, marzo, aprile, i primi di maggio siamo usciti, c'è quella fase acuta così come l'abbiamo vissuta, in questo momento non c'è. Quindi ci troviamo ora in una fase di convivenza con il virus, con dei dati che mostrano diciamo una situazione molto sotto controllo grazie a tutto ciò che è stato fatto nei mesi passati, cioè la chiusura dell'Italia, ha impedito la diffusione del virus nel resto dell'Italia rispetto purtroppo alle regioni che invece hanno vissuto il dramma maggiore. Quello che stiamo facendo, c'è la distanza di sicurezza dagli altri, l'utilizzo delle mascherine, tutte queste buone pratiche che in questo momento stanno tenendo lontano il virus da potenziali ospiti. Senta Sileri, l'Istituto Superiore della Sanità parla della presenza ancora di focolà in Italia, l'epidemia dice non è conclusa perché poi ne parleremo diciamo con meticolosità nel corso della nostra ora insieme, c'è comunque chi ha sostenuto che il virus fondamentalmente è clinicamente inesistente. Ora prima però di entrare in questo argomento che è un po' più articolato, le volevo chiedere, dei numeri invece ancora un po' più sensibili ci sono nella regione Lombardia, le danno ancora preoccupazione quei numeri o diciamo è tutto fisiologico, è tutto come avrebbe previsto pochi giorni fa? Ma sì, a dire il vero, chiamarlo fisiologico forse non è corretto, però diciamo che è fisiologico nei termini dei numeri altissimi che aveva la Lombardia. È chiaro che in Lombardia i numeri che sono stati visti erano davvero molto molto alti e quindi è chiaro che lì si trovano ancora diverse persone che rimangono contagiate. È chiaro che avremo sempre più numeri alti in Lombardia rispetto ad altre regioni dove il virus è arrivato con numeri minori. Ora quello che ora interessa è vedere l'andamento di questi numeri da settimana in settimana, o meglio se improvvisamente la prossima settimana o quella successiva dovesse esserci di nuovo un aumento considerevole di questi numeri, allora è una situazione che deve essere tenuta sotto controllo e questo tenerlo sotto controllo farà sì che verranno presi dei provvedimenti. Ci sono ancora dei focolai, quindi il virus continua a circolare, ma circola in una forma molto ben controllabile al momento. L'epoca anzi ha detto che comunque si continuerà a monitorare la situazione, soprattutto alla mia domanda sui numeri della Lombardia, che sono quelli che insomma ancora sono un po' significativi e in caso si prenderanno provvedimenti. In che senso? Avete già un'idea chiara? Ci sarà un aumento dei tamponi, un aumento della mappatura attraverso test serologici? Come vi muoverete su quelle regioni ancora più, con una circolazione del virus più importante? Voglio far chiarezza, ancora prima che poi magari esca la notizia, Sileri mette sotto controllo la Lombardia. Il mio riferimento non è assolutamente alla Lombardia, il mio riferimento è a tutta l'Italia, anzi direi andrei anzi in senso contrario, cioè qui non c'è un problema a Lombardia, qui c'è un problema di possibili focolai che possono essere ovunque in Italia e laddove si presenteranno dei focolai, laddove c'è il rischio che magari possano essere non sotto controllo, andranno prese delle misure di contenimento. Questo può avvenire ovunque. Anzi io a Lombardia vedo dei numeri che calano, sono stati fatti gli esempi delle terapie intensive, quello che ha detto Zangrillo, potete chiederlo anche ad altri intensivisti, cioè i pazienti non arrivano più negli ospedali e non arrivano in forma grave, ma credo perché il virus circoli meno, poi c'è chi dice che è mutato, magari fosse così, questo lo vedremo in futuro, intanto continuiamo ad agire con mascherine e tutte le norme che sono state messe. Ma ancora non lo possiamo sapere? Non lo possiamo sapere se è mutato? Sono l'ultima persona a cui potete chiederlo, nel senso che io in questo momento, al di là che faccio il medico, peraltro faccio il chirurgo e non il virologo, sto facendo il viceministro in questo momento. Questo diciamo lo diranno gli scienziati con i loro studi scientifici. Io da semplice cittadine e viceministro, se mi chiede secondo te perché non vanno più in pronto soccorso, dico beh, le norme, basta uscire da casa, vedi che hanno mascherina, le persone sono distanti, si lavano le mani, queste norme consentono al virus di non circolare. Poi seppure è mutato, meglio ancora. Ora, quello che io intendo è che se magari nei prossimi giorni, prossime settimane, dovesse versificarsi una situazione in cui i contagi salgono in maniera esponenziale in un paese, in una RSA o in qualunque altra parte d'Italia, lì chiaro andrà fatta un'azione di contenimento. Quindi delle azioni chirurgiche limitate, molto poco invasive, laddove il virus può diventare di nuovo un problema. Quindi non c'è un problema a Lombardia. Se lei mi chiede se c'è un problema a Lombardia, io non vedo un problema a Lombardia, anzi vedo dei numeri che sono continuamente in calo, delle terapie intensive che sono vuote. Vorrei mettere una pietra sopra su questa cosa, problema a Lombardia, le regioni vicine devono essere preoccupate perché i Lombardi si spostano. No, l'Italia è aperta, le persone possono spostarsi ovunque, è tutto molto sotto controllo. È chiaro, dovranno essere fatti più tamponi laddove riparte l'epidemia, dovrà esserci fatto un contact tracing più accurato, magari dovrà essere chiuso un RSA nel momento in cui ci sono dei contagiati all'interno. Cioè sono delle procedure ad hoc che verranno attuate laddove si verifica eventualmente il problema. Che ha sentito anche il direttore generale per quanto riguarda il settore aeroportuale, che comunque è un settore importante perché denota la nostra vitalità, insomma spostamenti, mobilità e tutto quello che concerne. E diceva tutto dipende dall'andamento del virus e da quello che sarà. Allora per controllare anche questo andamento del virus, la sanità si sta cambiando, è cambiata e continuerà a cambiare anche nelle prossime settimane. Vengo subito al Soto. Il MES, ovvero i fondi che l'Europa stanzia per finanziamenti nel campo sanitario, 37 miliardi di euro, si devono prendere, non si devono prendere, mi sembra che ormai la voce abbastanza compatta sia nel comunque prendiamoli, perché comunque la liquidità male non ci può fare. Io volevo una sua opinione su questo, ma soprattutto poi volevo una sua opinione su come vanno utilizzati, perché mi sembra che il dibattito su attiviamo il MES, non attiviamo il MES, abbia monopolizzato finora l'attenzione. Senza bene capire poi, voi, governo, cosa ci volete fare? Prego. Non la sento Sileri? Regia ha un mio problema o non sentiamo più Sileri? Eccomi, colpa mia. Eccoci, prego. Ora, se alcuni paesi in Europa hanno detto no al MES, vi sarà un perché. Se chiede a me soldi, sì, soldi, soldi vantaggiosi, senza vincoli, allora va bene, ma devono essere senza vincoli e vantaggiosi, e anche in tempi rapidi. L'Italia ha dato davvero tanto all'Europa, non ci dimentichiamo che tutta l'austerity, tutti i tagli vengono da lì, quindi ora per ripartire è necessario un cambio di passo. Mi collego poi a ciò che ha detto il direttore generale dell'aeroporto. Ora, lui ha detto tre parole che io mi sono appuntato, semplificazione, velocità e colmare il gap. Lui l'ha detto per gli aeroporti, ma la stessa cosa vale anche per la sanità, e quindi mi collego a ciò che lei ha appena detto, come utilizzare questi soldi. Ora, mai come in questo momento, le sorti del nostro paese, e io adesso voglio parlare del servizio nazionale, per i prossimi anni dipendono dal ruolo della burocrazia. Noi dobbiamo eliminare la burocrazia per far rinascere questo paese. Questa storia che noi abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, perché ancora non è finita, l'ha detto bene anche il direttore generale, non sappiamo che fine farà l'epidemia, seconda ondata, ci sarà, non ci sarà. In ogni caso, questa storia documenta inesorabilmente i difetti e le carenze che negli ultimi anni hanno aggravato il Servizio Unitario Nazionale. Lo hanno detto prima i lavoratori, io faccio il medico, quindi l'ho detto anch'io negli anni passati, poi l'hanno detto i pazienti, poi l'hanno detto i pazienti e i lavoratori, poi sono arrivate un aumento delle denunce, poi sono arrivate le percosse, e amministratori, politici e quant'altro si sono nascosti dietro la logica dei tagli necessari, del mancato finanziamento, spesso anche senza un razionale. Ora, cosa dobbiamo fare con questi soldi? Sicuramente usarli bene, ma non per fare misure tampone, serve qualcosa davvero di strutturale. Primo fra tutti, secondo me, il personale. Non è pensabile di fare un servizio sanitario nazionale nuovo senza innalzare i salari e assumere, ma innalzare i salari in maniera importante e definitiva, perché le persone escono dal servizio sanitario nazionale perché cercano vantaggi economici, vantaggi di carriera altrove, vedi il privato, vedi l'estero. Ora, basta con le lotte politiche, basta con le discussioni interminabili, basta con le discussioni vincolate ad interessi, pregiudizi, annunci, e io la chiamo annuncite, spesso vengono fatti degli annunci, poi forse servono i fatti, servono annunci? No, gli annunci danno qualche decimale nei sondaggi, ma non ci serve questo, ci servono riforme strutturali, quindi servono 20-25 miliardi rapidi da usare bene. Se lei mi chiede come le usi, hai una scaletta? Beh, io inizierei con il personale. Chiaro che se poi oggi le dicessi servono ospedali, sì, il DM70 va rivisto, sì, perché sono stati chiusi troppi ospedali, sono stati chiusi male, il territorio serve, sì, cioè vanno fatte tantissime cose. Quindi c'è una scaletta progressiva che va anche ovviamente condivisa con i territori. Allora, dobbiamo rinforzare il territorio, dobbiamo investire su chi opera sul territorio, il medici, medicina generale, il farmacista, e cercare con loro di creare una rete che dia una risposta più sistemica al bisogno dei cittadini. Ed è per questo che secondo me immediatamente i farmaci devono tornare in farmacia. Sileri si andrà anche in questa direzione, a suo avviso, di rafforzamento del territorio? Sicuramente sì, ma il ruolo dei farmacisti, a parte che lo dimostra purtroppo anche il numero dei morti fra i farmacisti, perché sono morti anche 15 farmacisti, i dati aggiornati. Quindi è territorio, è sanità e l'importanza della farmacia e dei servizi era nell'agenda del governo precedente e in questa agenda. Sileri, un ultima battuta ancora con lei, le volevo chiedere come prima nel suo ragionamento, diciamo, l'ampio spettro ha parlato dell'abbattimento della burocrazia, come mi sembra una priorità assoluta, che un po' ha caratterizzato anche i passaggi passati, le file per gli esami, per delle TAC, insomma, le conosciamo tutte queste vicende. Le volevo chiedere se dopo questo lockdown di tre mesi, e quindi questa paralisi del sistema tutto, forzosa ovviamente, forzata, e il sistema invece ha ripreso. Cioè, se siete riusciti anche un po' a smaltire il pregresso, cioè quelle cose non urgenti, che evidentemente sono andate in stand-by del sistema sanitario tutto, o se avete ancora delle criticità, volevo sapere da lei qual è la situazione generale. No, le criticità ci sono, perché si è riaperto, gli ambulatori in alcune regioni hanno ripreso, alcune regioni hanno deciso anche di estendere i tempi per le visite ambulatoriali, ma voi pensate al numero, ad esempio, di interventi chirurgici che sono saltati durante questi tre mesi, cioè interventi cosiddetti non urgenti, o alcuni non oncologici, mezzo milione di interventi, 12 milioni di indagini radiologiche. Capite bene che recuperare questo necessita di un notevole impegno e di moltissime risorse immesse nel sistema. Ora noi metteremo più di 3 miliardi, sia per gli ospedali che per il territorio, però bisognerà, stiamo già lavorando a questo, fare un piano perché tre mesi per la sanità sono davvero tanti, cioè serviranno mesi per recuperare, pensate anche ad esempio alla prevenzione, pensate a tutta la diagnostica, agli interventi non oncologici, quindi stiamo lavorando a questo già da un po'. E servirà un po' di tempo per, diciamo, ripristinare la situazione. Io ringrazio veramente i miei ospiti per questa bella ora insieme, grazie al Vice Ministro per Paolo Sileri. Grazie a voi. Grazie a voi.